Ok, Clarence, oggi è stato il tuo debut in questa season, hai giocato qualche schifo, come è stato il sentimento? È stato bello, è stato un po' lungo tempo, da ero in una situazione di gioco. Avevo qualche schifo, credo che è stato ok, spero di avere più schifo. Puoi uscire un po' più, cosa era il tuo problema? Ho avuto problemi con i miei occhi, ho scopo, è stato molto lungo, ma ora è molto buono. In questa settimana hai giocato la prima parte del match e poi c'era una inflexione, cosa succede? C'è stato un po' lungo? Credo che in ogni gioco stiamo sempre facendo la scuola e cercando di fare un gol. Credo che abbiamo avuto più rischi di gioco, da loro hanno. ma al fine abbiamo dovuto scorrere, e si scorrano non lo so, magari è un po' di farse, il gioco è slipato da le nostre mani il key era il 5 minuti di potenza con solo un gol sì, in questo potenza abbiamo alcune chance, ma hanno un'esplice e poi il momento ha cambiato il momento per ottenere le 2-3 chance e la scuola Il prossimo settembre viene qui, è speciale per te giocare contro il tuo ex team Forse è speciale, è bello giocare contro i miei vecchi amici Ok, grazie Clarence